Allora, eccoci qua signori, vogliamo iniziare con qualche antipastino? Allora, dai cosa prende? Prima una bruschetta Giusto insomma per aprire un po' lo stomaco Per me due bruschette Due bruschette Una porzione di zeppoline Bella abbondante la porzione Poi si preoccupi, zeppoline abbondante, perfetto Poi le palle insalate Sempre insomma negli antipasti Poi le palle insalate Va bene Una porzione di patatine fritte Patatine fritte Prevete zucchine? Si, la palle pure di classico, la scapece Quindi anche zucchine Va bene Giusto qualche minuto E dicevo ci dobbiamo dire Quella che abbiamo comprato Allora signori, tutto bene, gli antipasti? Tutto buonissimo Possiamo passare ai primi? Lei cosa prende? Spaghetti alle rombole Quindi uno spaghetti alle rombole Lei signorina? Bacchieri allo sorghio Quindi spaghetti alle rombole Un bacchieri allo sorghio Gnocchi alla sorrentina Gnocchi alla sorrentina Gnocchi alla sorrentina Un bacchieri, gli occhi alla sorrentina E una porzione di lasagna E una lasagna Quindi pacchina allo scoglio Sorrentina Allora il tempo di coppia Signore tutto bene? Vi stiamo trovando bene? Mi fa piacere, avete pensato già qualcosa per il secondo? A me è una cotoletta Ok quindi cotoletta per il signore Per lei signore? Tristicarne E un cosciotto di pollo con le patate Ah quindi ce la ripensate, abboniamo il tristicarne No no no, tristicarne e un cosciotto di pollo con le patate Due cose No, magari tu la ripensate Un cosciotto di pollo con le patate Sì, tu la ripensate al forno Va bene, quindi cotoletta per il signore Tristicarne per lei Pollo e morata Per la torta Va benissimo Scusi, come contorno Vedi anche piuono nell'insalata Sì, abbiamo i classici signora E allora mi porta anche piuono nell'insalata Ah, cioè quindi pollo Porata e tristicarne E peperolinsalata Vabbè, giusto il tempo di... Grazie, grazie Senti Come frutta a me niente, grazie Perfetto Lei frutta dolce? Sì, porti un po' di frutta di stagione Quindi la... Sì, frutta di stagione, perfetto Come dolce? Come dolce mi porti... C'erai profetterol sia al cioccolato che con la panna Sì, abbiamo entrambi signora Quelli, insomma... Vedi, portiamo una porzione al cioccolato e una con la panna Quindi tutte e due... Mh... Vabbè... Quindi il porzio sia... Il cioccolato e il frutta Va benissimo Scusi, scusi... Mi può portare anche una porzione di ricotta e pera? La fetta di torte di ricotta e pera? Grazie, grazie Grazie Una ricotta e pera? Sì, sì, grazie Prego 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 Signori, a capo del conto Grazie Prego Ua Ok Ua, è esagerato Cameriere Cameriere Che cosa che è successo? Ma sto conto è salatissimo Ua, vai a dire, me ne è essaggiata pure vista Ua Ua